Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 26 febbraio. La perturbazione giunta sul nord Italia nella giornata di domenica interessa gran parte dell'Italia, in particolare tutto il centro nord con piogge più o meno diffuse, qualche pioggia anche sulla Calabria e sulla Sardegna. Le piogge saranno di forte intensità sulla Liguria. Per quanto riguarda la neve, ci saranno nevicate, nevicate anche abbondante, 30-50 cm sulla regione alpine, a quote superiore ai 600-800 metri sul Piemonte, 800-1000 metri sul resto dell'arco alpino. Qualche debole nevicata anche sui rilievi abruzzesi e molisane. Temperature in calo sotto 10 gradi su gran parte del nord Italia, 10-12 sulla regione Tireniche, ancora 13-15 sul resto dell'Italia.